Aspetta, è la CNN. Io sono quello che si nota di più sullo schermo. Questo paese ha bisogno di confini più sicuri. I nostri confini sono i più sicuri al mondo. Quello che dobbiamo fare è avere cura dei nostri figli. Non riesco ad avere un'erezione. Lei ritiene giusto concedere l'amnistia a coloro che si trovano già qui. Hanno un forte contributo all'economia. Ho provato tutte le erbe. L'amnistia non è mai la risposta. Non è l'amnistia, è il riconoscimento del loro contributo al nostro paese. Mi hanno detto di meditare, ma io mi addormento. Servono controlli più severi. E applicare le leggi che già esistono. Mi terrorizza restare solo con mia moglie. È uno stress enorme. Non cambierà mai niente se il congresso non accetta compromessi. È quello che dico io. L'unica soluzione è un muro. Mi sveglio con un'erezione, ma mai quando lei è a letto con me. Un muro non risolve niente. Questi bambini hanno dei diritti. Ho speso 3.000 dollari per una vacanza romantica. Pensavo mi aiutasse. Invece mi sono girato i pollici giorno e notte. Il tempo a disposizione è finito. Grazie a Peter Griffin... Non voglio tornare da mia moglie.